Un saluto da Alfredo Giuliano a tutti gli amici della rete. È venerdì. Andiamo a sprombattuto verso il Natale. Supereremo il Natale e molti si aspettano cosa succederà dopo il Natale, dopo il Capodanno e che finalmente, come per incanto, il 2021 possa aprirsi uno scenario nuovo, meno allucinante, che si possa ritornare alla normalità. Abbiamo urgente bisogno di ritornare alla normalità, ad essere quello che eravamo e non perché l'Italia funzionasse, perché la malavita c'è sempre, la corruzione, le difficoltà economiche, la crisi, una politica che ormai è incapace di governare e se poi alla politica gli diamo anche gli strumenti di sgovernare attraverso un meccanismo ignoto per loro, ma anche per i virologi, che come ovviamente governare una razione dove dentro c'è una presunta pandemia, mai affrontata realmente e seriamente con gli strumenti giusti e adesso ovviamente stanno sulla difensiva, ma non perché ci sarà un ritorno del virus, perché sono tutte sciocchezze, è perché ogni anno se confrontiamo le statistiche ci accorgiamo che l'influenza stagionale lascia morti persone che hanno già problemi, che sono rifedate, che sono debilitate. L'ho detto, siamo un paese di viziosi, ci ammaliamo per il fumo, per l'alcol, per la droga, per i vizi e i stravizi che abbiamo, perché siamo purtroppo animali, questo antroposso che si crea sempre, quindi quest'uomo che si crea sempre dei problemi, questi problemi poi lo conducono alla morte e solitamente a una morte precoce rispetto a quello che potrebbe essere l'esito fisiologico di una persona che si nutre bene, che non beve, che non ha vizi, che non litiga, che capisce la vita con filosofia, quindi accoglie gli errori come il frutto inevitabile di un'esistenza, i conflitti con i genitori, con le mogli, questi purtroppo omicidi costanti che ci sono, luxoricido, uccidio, tutto ciò che succede all'interno di una famiglia e di una società ci porta naturalmente alla morte precoce. Ma non dobbiamo aver paura, diceva Socrate, perché non eravamo nati prima, ma quindi ritorneremo di nuovo a non nascere e ad essere in una dimensione, quella del limbo, forse della inconsapevolezza e che forse la nostra nascita è stata la possibilità di prendere una materia animata, spirituale, che non ha coscienza di questo pianeta e che attraverso l'incarnazione di questo animale chiamato uomo ha preso coscienza, ha potuto liberare tutte le sue energie, quindi ha potuto procreare e nello stesso tempo dipingere attraverso la matematica, inventare la filosofia, la matematica, le equazioni, il sillogismo, la ricerca dell'impossibile, poi la ricerca del bello, la ricerca della moda, della creatività assoluta, insomma ha potuto amare, ha potuto scrivere, ha potuto inventare musica, può ascoltare musica, può ascoltare tutti quei suoni che sono il caotico frastuono dell'uomo vivo che viene mosso da questa essenza metafisica, quello che è aleta nello spazio, che è pieno di essenze che possono, o essenza che può dare vita al nostro corpo. Quindi un premio, quello di entrare in un corpo, come dicono gli hindù, è poterci saziare di tutto ciò che riusciamo noi a fare e di quello che in fondo ci dà la terra, perché se la terra aveva l'aria, le bacche, l'acqua, i pesci, la carne, soprattutto i prodotti che l'uomo può assimilare, che nello stesso tempo sono anche la felicità dell'uomo, e scoprire la matematica, la musica, internet, tutte cose che alla fine hanno costruito una dimensione molto importante, il ponte di Brooklyn, i grattacieli, le sfortunate torri gemelle, il corosseo, le epoche, le storie e tutto ciò che è legato al flusso della storia e che ha rappresentato quello che noi definiamo il progresso, ma non sappiamo nella realtà. Di una cosa siamo sicuri che tutto ciò che sappiamo può essere qualcosa che non sappiamo e tutto ciò che vediamo può non essere quello che vediamo e tutto ciò che cerchiamo di essere in fondo è la nostra insicurezza. In fondo chi è l'uomo? Cosa ne sappiamo? In questo dubbio che ci ha portato Parmenide, prima ancora di William Shakespeare, essere o non essere è l'uomo che ha inventato Parmenide. Questo filosofo che ha partorito la sua filosofia qui a pochi chilometri da dove abito io, e quindi la sua filosofia eleatica, dopo di lui l'ha portata avanti anche Zenone, e quindi chi siamo noi? Lo sappiamo? Ma sappiamo di sapere realmente chi siamo? Spesse volte nasce il dubbio di non sapere quello che siamo e succede che dall'essere nasce il non essere. E cos'è il non essere? E' qualcosa che ci sfugge, ma anche nasce dalla paura di essere qualche cosa che non si è. Faccio il postino, sono sicuro di fare il postino, sono sicuro di essere il padre, il marito, chi mi dà la certezza che io faccio tutte queste cose e che queste cose facciano parte, siano parte della nostra esistenza. Ecco perché entriamo in una fase del dubbio, nella fase del dubbio cartesiano, ma anche emiletiano, quindi parmenidiano, quindi siamo tutto un insieme di cose. a rompere ancora di più, a creare incertezza rispetto ai nostri dubbi ci ha pensato il Covid. Però non dimentichiamo che nel corso della sua esistenza l'uomo ha affrontato problemi molto seri, per non parlare delle invasioni, del fatto che gli eserciti stranieri o poco vicino a noi o alle popolazioni del Medioevo, tra di loro aprissero fronti di guerra in paesini, dico sempre vicini, e che quindi venissero saccheggiati, derubati, stuprati, assassinati e che una parte della popolazione diventasse schiava dei popoli che avevano vinto la contesa con il quartiere, con il paese vicino. o le grandi battaglie dove purtroppo lasciavano a terra migliaia e migliaia di morti straziati nei modi peggiori, quindi accontentiamoci perché una cosa abbiamo capito, pur se mal governati, pur se abbiamo Gigino Di Maio, pur se diamo fiducia a Grillo, stiamo andando verso il progresso, quindi attraverso l'igiene. Abbiamo scoperto al tempo dei Romani le condotte fognarie, poi abbiamo inventato i servizi igienici in casa, siamo stati i primi a utilizzare il bidet, nonostante abbia questo nome francese, e insieme si prosegue e siamo consapevoli di una cosa. Di cosa siamo consapevoli? Siamo consapevoli di sbagliare, ecco, l'uomo res cogitan, l'uomo sa di sbagliare, l'uomo sa di pensare, l'uomo sa che in questo momento della sua vita, della sua esistenza, altre generazioni che oggi non ci sono più hanno combattuto delle guerre ingiuste, c'è stato l'olocausto, le bombe nucleari su Hiroshima che hanno creato i primi problemi molto grossi che hanno innestato patologie cancerogene, perché se noi ci siamo preoccupati nell'86 di non mangiare le verdure, gli asparagi selvatici, i funghi, perché da Chernobyl, quindi lontana migliaia di chilometri da noi, la nube rilasciata per l'esplosione di questo fungo nel reattore nucleare di Chernobyl, ha poi prodotto l'inquinamento nucleare che ancora adesso purtroppo genera neoplasia, non sappiamo perché, non abbiamo certezze, perché i fisici conoscono la materia nucleare, i patologi ancora non conoscono l'effetto del cesio e non viene misurato ovviamente il cesio, le radiazioni nucleari vicino casa, sarebbe invece importante che i cittadini sapessero se nell'ambiente in cui vivono, operano, bevono, vanno alla fontana, vanno a raccogliere funghi, ci sia un inquinamento dovuto alla radioattività. Ma sono i popoli precedenti a noi, quelli del Novecento, che pur avendo prodotto figure importanti di uomini nella creatività, nell'arte, nella musica, nella tecnologia, nello stesso tempo hanno prodotto morte, hanno disegnato il terrore, l'orrore umano, come l'uomo possa diventare una bestia. L'animale più feroce, quello che diceva per l'appunto Mero, l'uomo sulla terra, tra tutti gli animali che camminano e si nutrono su questa terra, è il più feroce, è il più malvagio. Ma nello stesso tempo però sappiamo, ecco, discutiamo di essere stati malvagi, domani sbaglieremo e sapremo nello stesso tempo di sbagliare perché nell'uomo c'è l'essenza dell'analisi. Ecco, l'uomo è analitico, è un analitico esterno, cioè che parla, che immediatamente riconosce o non riconosce, ma ne discute dei propri torti e delle proprie ragioni e poi c'è l'analisi, quella junghiana, l'analisi del profondo. Sappiamo intimamente dentro di noi la nostra natura, i nostri limiti e cerchiamo di migliorare noi stessi. Questo dover migliorare nel profondo l'uomo, la sceta, il pensatore è anche l'inizio di uno riequilibrio della società che è destinata, come diceva anche Aristotele, a stare insieme, a vivere insieme perché noi non possiamo vivere da soli, ma abbiamo bisogno degli altri. E sebbene ci sia il confronto, ci sia l'agorismo, ci sia l'antagonismo, ci si combatta, ci si odi, ci si faccia tutto il male possibile, siamo destinati tutti insieme, perché figli di un'unica madre, a proseguire fino a quando la terra potrà sopportarci, le leggi della fisica, della termodinamica ancora renderanno possibile la vita dell'uomo su questo terra, oppure saremo destinati anche a occupare l'universo. Questo non lo sappiamo, non possiamo fare discorsi del genere. Però è ovvio che in questo 2021, al di là di questi ragionamenti metafisici, metafantastici, noi ci auguriamo di ritornare a vivere con i piedi per terra, a vedere le partite di calcio negli stadi, ma non solo quelle di atletica leggera, di ipica, uscire con le famiglie e incontrarci direttamente nelle ville, nei giardini pubblici, lungo le strade di Salerno, di Cosenza, di Milano, di Firenze, poterci ovviamente riabbracciare, stringerci la mano e vivere una vita normale, quella che è destinata a noi al di là del Covid. Pertanto possiamo anche attraversare un periodo di malessere sociale, ma prima o poi si ritornerà alla normalità, perché sono le leggi, le leggi che normalizzano dopo un periodo di squilibrio della nostra vita, quindi della società, dopo l'impazzimento, dopo la collera, dopo l'esplosione, di tutti i nostri malesseri e di tutti i nostri vizi e di tutti i nostri peccati, questo lo dico con le idee di Sant'Agostino, la società, perché c'è una forza che tendenzialmente, ed è quella che ci fa esistere, ci riequilibria, quindi ci riporta alla normalità, quindi non sappiamo il tempo che impiegherà, perché non possiamo studiare quelle forze che sono le tendenze della fisica, le tendenze dell'immanente e le tendenze della scendenza, quindi del trascendente che nello stesso tempo regola l'immanente. Quindi ci sono due forze, quella della vita e quella dello spirito, che insieme coabitano e l'una è la regolatrice dell'altra. L'abbiamo notato nei secoli, i tempi ci hanno sempre descritto che poi alla fine, dopo tanto perire, dopo tanto essere travagliati dalla disgrazia, dalle guerre e dalle malattie, si ritorna alla normalità. Chi sembra che invece non sia ritornato alla normalità, e parliamo di calcio, è Antonio Conte. Antonio Conte che è travagliato dal suo spirito, dalla sua nevrosi, dall'essere un uomo maiuscolo con pregi e difetti, ma è un uomo che già ha inciso nella storia del calcio. Prima come calciatore, poi come allenatore, non riesce a vincere una Champions ma addirittura non riesce neanche ad arrivare alle qualificazioni. Lo scorso anno ci è arrivato non in Champions, in Premier League e scusate direttamente nella seconda fascia delle competizioni europee e l'ha persa anche per me la sfortuna. Io però posso senz'altro difendere Conte, difendere Conte perché è in fondo il prodotto di una Juventus perdente a livello internazionale, perde sempre perché c'è una sorta di fatalità. E chi più di me, che ha avuto un figlio che ha giocato nella Juventus per nove anni e che ha perso ben cinque finali europei, ne ha perso quattro di Champions con la Juve e una con Zoff alla finale degli europei dopo che avevamo dominato la Francia, prendiamo il gol del pareggio e poi tre seghe e si inventa quel gol della vittoria, quando già l'Italia che aveva dominato sul classato quella Francia e le tante partite che ha giocato mio figlio con la Juve, con squadroni, con Zidane, con Deschamps, Montero, Ferrara, Del Piero, insomma con Boxic, giocatori straordinari e va a perdere con una squadra come il Borussia che si era rinforzata tra virgolette con le riserve della Juventus, con Sosa, Köhler e ha perso. L'anno successivo un'altra sconfitta per mera sfortuna ma straordinaria nello stesso tempo con il peggior Real Madrid e Conte perde nello stesso modo, quindi si trascina la laiella, chiamiamola così, la fatalità della sconfitta già alle porte, della sconfitta premeditata dalla sorte e è uscito dalla Coppa, poteva senz'altro realizzare almeno una rete, ci è arrivata vicino, ha anche fatto un palo, una traversa, insomma ha dei giocatori importanti che nei momenti decisivi non riescono ad esprimere il meglio. Un allenatore fortunato avrebbe senz'altro vinto quelle partite se non avesse nel DNA la sfortuna della Juventus nelle Champions. Ricordiamo che è arrivata anche in finale con Allegri ma ha perso, un po' perché ha trovato un Real Madrid tosto e importante però l'ha trovata anche in un momento particolare. Quindi Conte si porta dietro una serie di cose. Poi nel dire che l'Inter sia una squadra altamente competitiva bisognerebbe vedere non abbiamo la controprova allenata da un altro allenatore per capire quali sono i pregi, i difetti, oltre ad avere un Lautaro Martinez che va a corrente alternata, che Lukaku a volte risolve partite e poi si impalla e non tocca praticamente la sfera e si, come dire, si isola dal contesto del gioco. Dipende dal fatto che Lukaku non si inserisce in alcune partite perché non si trova, non c'è affiatamento, non c'è affinità sempre con Lautaro Martinez o perché la squadra è stata messa male. Una cosa voglio difendere Conte, l'ho scritto ovviamente sul titolo di questa diretta, ma Capello perché non si fa i fatti suoi? Io posso capire che soddisfa l'appetito anticontiano dei tifosi della Juventus e di chi Conte l'ha sempre osteggiato, ma Fabio Capello, oltre ad essere stato un giocatore della Juventus o pluriscudettato, un calciatore della nazionale, è stato uno dei nostri allenatori più importanti, ha vinto tutto, ha vinto in Italia, ha vinto col Milan, ha vinto con la Roma, ha vinto a Madrid con il Real Madrid, ha vinto praticamente tutto ciò che c'era da vincere per cui dovrebbe essere perlomeno clemente con un calciatore che è anche stato ovviamente un suo allievo. Per cui io ritengo che le sfuriate di Capello, la provocazione di Capello del momento in cui Conte è uscito dalla Champions e quindi è un diavolo per Capello, il Capello non può avanzare determinate critiche sapendo che l'uomo è quello che è, l'uomo in quel momento è intrattabile, conosciamo il temperamento di Antonio Conte, esce Capello e gli dà direttamente una mazzata sulla testa e molti si aspettano che Conte non reagisca. Non è assolutamente vero, è successo quello che avrebbe fatto un allenatore di carattere, forse se ci fosse stato un mazzone al posto di Conte si sarebbe alzato dalla sedia della tribuna stampa e sarebbe andato, io oltretutto non ho visto, per cui non so se le critiche di Capello siano state fatte attraverso il mezzo televisivo, quindi è naturale, Capello non era lì in tribuna stampa insieme agli altri giornalisti, però ho trovato volgare e di cattivo gusto che un uomo come Don Fabio, così lo chiamano a Madrid, abbia danneggiato un collega, prima di tutto perché due allenatori debbono perlomeno cercare di limare e di salvare capre e cavoli rispetto a quella che è la figura professionale, che è quella dell'allenatore, per cui la mia condanna netta va nei confronti di Don Fabio Capello. Poi di Conte possiamo dire che sta sbagliando, che ha sbagliato con le critiche sperticate alla Capello, se vogliamo, nella stagione precedente, che forse non è finita e che forse l'Inter avrebbe fatto bene ad esonerarlo per garantirsi almeno la tranquillità della gestione. È chiaro che Conte ha dato una svolta e che seppure attraverso l'assenza di spettatori in questo campionato anomalo è riuscito lo stesso, da anni non ci riusciva l'Inter ad acchiappare il secondo posto e entrare in finale direttamente in una competizione internazionale. Non sappiamo come entra quest'anno, la squadra si sta riprendendo, c'è un Milan tosto, la Juve comincia di nuovo a farsi sentire, il Napoli è là, sarà comunque un campionato combattuto, c'è ancora metà stagione per vedere quale sarà l'evoluzione di questo campionato, quindi è evidente che Conte con 12 milioni di incaggio, milioni di euro non sarà esonerato, anche perché insieme a Conte c'è uno staff abbastanza ben nutrito che deve pagare l'internazionale. Forse il prossimo anno è probabile che a scadenza di contratto consensualmente si lasceranno, non so se si daranno una stretta di mano, certamente ritengo che questa sia l'ultima stagione di Conte, a meno che riesca a vincere lo scudetto e a convincere, ma non gli è rimasto altro da fare, ma il personaggio, l'uomo che è ritornato dall'Inghilterra dopo l'anno sabbatico, cioè dopo un anno passato spensieratamente fuori dal clima calcistico è ritornato con molti problemi e ritengo che molti problemi Conte li abbia anche accusati con la situazione che si è venuta a creare attraverso tutti quei morti, i contagi, le paure, io l'ho visto francamente stravolto. Ho frequentato Conte per moltissimi anni, conosco lui, il fratello Luca, ci siamo visti allo stadio, sono andato a trovarlo durante il periodo dell'infortunio, quindi è sempre avuto un caratteraccio, non è mai stato un tipo troppo giurivo. Conte sta bene ed è felice dieci minuti, ma le prossime ore le passerà col suo carattere, prigioniero di se stesso, prigioniero anche di una sindrome a mio avviso che è quella di una schizofrenia che non riesce a controllare sempre, per un allenatore di calcio, per una grande piazza come Milano, d'altronde questi sono stati anche i limiti che poi hanno condotto all'esonero, lui se n'è andato, ma Gianna Juve aveva intenzione di esonerarlo, non tanto per la conduzione manageriale calcistica perché aveva vinto tre scudetti, ma perché gli Agnelli certamente o gli Elka non si lasciano condizionare da un allenatore di calcio. Il potere non si lascia condizionare da nessuno se non da altro potere essere equivalente, con la stessa possibilità di incidere sulle sorti di una società. Bene, è tutto che dire, che stiamo ancora aspettando se possiamo o non possiamo muoverci, se potremo farlo o meno attraverso i nostri comuni o le regioni, ma Sua Maestà Luigi Di Maio ha detto che, ma che schifo, non possiamo confinare i nostri, consento che la popolazione possa muovere. Quindi ci troviamo di fronte a un reame, ci troviamo di fronte a un editto reale che ci concede la possibilità di respirare, di muoverci, di modellare un po' la nostra vita. Chi mai avrebbe detto che saremmo finiti così? Ma io l'ho sempre detto, l'ho predetto e l'ho spiegato. Le leggi dell'immanenza e della trascendenza prima o poi riescono ad andare d'accordo, a trovare una giustificazione e a riequilibrare gli squilibri che in questo anno ci hanno fortemente cambiato la vita. Oltre ad aver procurato una serie di morti, ci hanno anche lasciato tanti campioni artisti che ci hanno fatto nello stesso tempo capire che questa è stata veramente un'annata vera disgraziata. Un saluto a Alfredo Iuriano. Grazie a tutti.